La parte del mondo, da un calcio ad un pallone rotondo, che schizza in aria, cupenda o male, fa strani e freddi, non mi sembra normale. Normale, normale, normale! E senza assentamento di palle. Ho capito, però era l'effetto. Ho capito, però era l'effetto. Che era... non era normale. Non era normale. Ora bisogna... Perché ripeti tutto? Perché ripeti tutto? Non sei un pappagallo. Un pappagallo. Ma è un ospedale se vuoi fare un pappagallo. Un pappagallo, un pappagallo. Anche la padella. Allora. Dei. Dei. Dei, 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 dei. Copiate anche i gesti? Copiate anche i gesti? Dei, 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 dei E dei bambini Che giocano a pallone Quando ormai le distingue le visioni Gli stagli pieni rimango per me solo Il telecronista è sempre lo stesso Non credevo che un giocatore Stesse concentrato solo sul pallone Invece questi hanno lunghi il flashback Ma l'avversario in quel momento E il codore Ma in ogni è fai Tutto è normale Anche il jabone Dice vogliare Ma in ogni è fai Tutto è normale Anche il jabone Ma quando canto Nel proprio suo campo Loro non sanno calciare come noi, usano sempre posizioni idiote e poi Riescono a tirare certe fucinate che volano al raso del rai perché ci puntate Rimbaltando sul palo il portiere, la palla non riesce a trattenere E come accada ancora non so, scusa la rete il muro dietro e fa GOL! 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 Era fuori i Jokes GOL! 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 *** delle risposte ancora io cerco forse sta gente ha lavorato in un circo ancora è salta a volare mai in una scotta dopo due ore all'orizzonte sconda la porta mai non gli impegni tutto è normale anche il ciappone è lungale ma non gli impegni nessuno è messa ma quanto cacchio è lungo sto capo questo individuo è ragazzi per i traccius sono pazzi sono portieri in cattatante ogni vincito è sperante non vogliono giocare i campioni di quintali per poter così giocare nella nazionale grazie 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 grazie